Come ci sono i lavori per il miglioramento dello stadio? Il nostro lavoro. Poi lavoriamo anche perché si possano unire anche gli impegni non solo dell'amministrazione ma anche della società. Sarebbe molto utile e molto bello. Per ora il nostro cronoprogramma va avanti e quindi noi non è che a settembre avremo il nuovo San Paolo. A settembre avremo qualche ulteriore piccolo miglioramento dello stadio San Paolo a cui si aggiungeranno poi nei prossimi mesi ulteriori piccoli miglioramenti. Con un investimento economico importante che l'abbiamo fatto esattamente nello spirito che dicevo prima. Per noi lo stadio, la squadra non è solo un fatto sportivo. Fa parte dello sviluppo della città. La squadra porta anche economia a questa città, porta una comunicazione forte, porta l'orgoglio e quindi è giusto che l'amministrazione investa. Anche il lavoro con la società è come sempre un lavoro difficile, non sono stati cinque anni e mezzo di rapporti facili con la società, ma abbiamo sempre lavorato per costruire rapporti migliori. Anche in queste ore stiamo lavorando per costruire rapporti sempre migliori a cominciare dalla bellissima iniziativa che vogliamo fare insieme in occasione della cittadinanza a Diego Armando Maradona. Un grandissimo maradona che vogliamo fare insieme con un evento qui al comune, credo al maschio Angioino e un altro come giusto che sia nello stadio San Paolo.